Assessore Mascarin, dal 26 novembre fino al prossimo anno torna alla tredicesima edizione della rassegna con le parole giuste. Tanti appuntamenti e incontri alla Mediateca Montanari di Fano. Sì, una rassegna che ancora una volta segna una collaborazione importante tra il sistema bibliotecario del Comune di Fano e l'Associazione Nazionale Magistrati. Una rassegna che anche quest'anno cercherà di declinare le parole della giustizia nell'ambito della filosofia, della letteratura e della società, con un filo conduttore che quest'anno sarà la parola cura. Cercheremo in qualche modo di costruire un dibattito da mettere a disposizione della nostra comunità proprio sulla necessità di affrontare una serie di emergenze che riguardano l'ambito etico, culturale, sociale, finanziario, migratorio e cercheremo di farlo appunto con un dibattito articolato in sette appuntamenti che da questa domenica fino al 30 di marzo accompagneranno non solo la Mediateca Montanari ma appunto tutta la città in un confronto aperto e orizzontale. Il primo appuntamento è questa domenica il 26 di novembre alle ore 18 presso la sala ipogia della Mediateca Montanari con Davide Piacenza e la presentazione del suo libro edito da Inaudi la correzione del mondo. Un appuntamento che ci permetterà di fare una riflessione sulla contemporaneità in particolare su, diciamo così, la dinamica ormai ricorrente di ricostruire nel presente i connotati del passato ai fini anche del dibattito che invece vive nella quotidianità. Quindi in qualche modo un dibattito sicuramente molto intrigante che poi proseguirà per l'appunto con altri sei appuntamenti fino alla fine di marzo. Il programma completo dove è possibile trovarlo? Il programma completo è possibile trovarlo sia sui social in particolare facendo riferimento alla pagina ufficiale di Mediateca Montanari Fano oppure sul sito sistemabibliotecariofano.it